buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video io sono tio e oggi siamo nel terzo allora lui ha scelto il kit ranger e io il kit il solito perché secondo me secondo me è meglio questo perché c'è più colpi più vai veloce vieni nella cintata cosa guarda guarda mi fia aspetta aspetta rimani qua mi vedi guarda eh sei saltato all'aria troppo bello mi piace troppo tu avevi lì in mezzo alle postazioni o fai un salto e butti via tutti ma che cosa fa cioè sto qua sta cercando di blocchittare soltanto che poverino non ci riesce e allora guarda come lo prendo aspetta attento guarda come lo prendo lo prendi oddio l'ho sottopo ok ho il potere napalm ma che cosa cioè io odio il kit mago perché tipo ti fa delle magie troppo strane stupose tipo una volta cioè adesso mi ascolta tipo mi scherato uno spese di palla di bocca guarda come un po' come noi come di testo la 1.8 cioè aia no mi hanno dato un'altra cia ancora quella che cerca di blocchittare ma un hub sto qua ma secondo me sta cercando di blocchittare con la 1.8 sto qua no in questo gioco bisogna giocare con la 1.8 perché sennò non si gioca io per te non ho un'altra città ma che palle sti mani qua che tipo di stifano sta magia qui che ok troviamoci stiamo città alle canne alle canne alle canne si alle canne di come marijuana ma quali canne ce le sono in Italia? si alle canne quale alle canne quale oh ti vedo ti vedo si arrivo io da te dai vieni che è che si tanto più coloro che mi aumenta la velocità si dovrebbe fare di se la ti vedo ok sei andiamo di là con chi sta la banda vieni si guarda cosa gli faccio fare nooo gli ha sparato la freccia in casa quella no no sto sto zizzo sta scappando andiamo a ucciderlo uccidilo uccidilo si si sta allagando aica da tanto tanto vuole c'è adesso mento guardalo dove cavolo è andato? fino a guarda come mi tiro una faccio muori ma senta come sei uuuuh ahah distrutto aperto proprio no adesso guarda guarda arco no adesso mi rimetto la scena qui a rallentatore ooooo si eh ci so no tipo E' stato troppo figo, sembrava che la freccia avesse oltrepassato il suo corpo, è passato attraverso e l'ho ucciso Era proprio quello che volevo, allora guarda No, mi ho ucciso credo, non lo so Sì, l'hai ucciso, grande Sam Dai, dai, vedi a destra che ci sono i punti, sai come funzionano? Sì, sì, noi siamo i blu, vero Sì, noi siamo i blu, stiamo vincendo i primi che avevano 15.000 vinto Però hai visto i, non so, hai visto prima la, comunque quello lì era in Napoli, praticamente usava la freccia per spararmi i 10 Lo so, non mi spara tanto E io non me in te, non mi piace il più questo tipo Maia, io sono in due e mi hanno ucciso No, avevo io, avevo io che ridomino la zona, non lo vedi, ah, ok, no, di là c'è una zona rossa Vedo, attento che ce ne erano dietro Ah no, è la tua stessa squadra No, ce ne sono già Ah no, sì, vado a dominare Che stupi Guardali, se ne sono andati via E io adesso conquisto la zona Guarda, se ne vado via, intanto io conquisto la zona Vai Sam, vieni a dare una mano a conquistare la zona Spervande che mi è finita la giudicata Guarda, guarda Tu puoi lanciarli blocchi Ah, dall'alto Tu puoi lanciarli blocchi Blocchi, non lo so E io comunque so, ma poi posso anche lanciarli blocchi Lo so, ma io non so cosa disengli, o disengli E perché in Architanker ha disengli, disengli Io non ho la sua potenza, uno perché non so Ma io non so Tu, no, siete eletrasportato Tanto vuoi Dai, dai che percorro Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni al centro che è dominato dai rossi Guarda, ho preso un coso verde Ma poi hai mette quelle specie di potenziavi Quindi, non so, delle ceste che trovi in giro Sì Ecco, cosa serve? Perché c'è io, non so che cosa serve Che bellezza, si può capire Dove sei? Ma quante zone stiamo dominando? Lo so, dove sei? Eh, sono, vabbè, io sono un po' in giro Vedo Vabbè, ah, la stato divendo Stiamo divendo proprio Vabbè, sono molti più o meno fai Come giocatori Che ne dica? No, non mi ha finito Voli e rosso Vieni e rosso, senno Senno, non te a lucidesi A lucidesmi, girati e conquistiamo questa zona qua Sì, se ne sono appena andata Bella, in tre va velocissima la conquista Ahia, qualcuno mi ha lanciato un blocco Eh, non so, io per scaglio Vai, o avanziamo noi due Sì Io ho, secondo me Ho la vaga sensazione che in centro stanno dominando Per me, sto scaglionando loro Sì, ma che vuoi dietro? Sì, lo so, lo so che ho il mondo dietro di me Aiuto, scappa Scappa, lo io sto scappando Sì, sì, te li ho buttati via tutti Usò una palma, usò una palma Ok E' la pastora, no Sì, l'ho ucciso, l'ho ucciso, bella No, io la freccia, lei Usò la freccia, quella Oh, c'è un tipo, la mano al nostro Guarda, 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 quello l'ha Tanti che mi sparo, guarda No, hai visto No, non l'hai beccato Perché l'ha colpito il tuo compagno So, aspetta, guarda Stiamo vincendo, bella Oh, la c'è, sen Girati Che, così Oh, c'è, 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 c'è Pregnante Però, a dire con la verità Guardalo, distruggi sopra il mago lì Lì, così Grande Basta, usa il kit mago adesso Ok, adesso c'è questo qui No, Bruno distruggito proprio qua in tre Ciao, Sam, hai cambiato il kit mago 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 Il bello è che posso tenere lontano qui Non lo so, però non mi piace di più questo Vole di neve Oh, al centro sta succedendo il casino, eh È vero, arrivo Vieni al centro Ma Aiuto Ci sono tre maghi Oh, oh, cos'è, cos'è Questo qui citta Lo va andato via con la neve Aiuto Grande Aspetta Vai bella, ci siamo quasi a vincere Sul kit squadra Che io mi faccio il kit modificati Guarda, guarda che l'uccido Dai che... Bella, vittori Sì, abbiamo vinto Sì, abbiamo vinto Sì, abbiamo vinto Dai, posso fare la... La mia intro finale No, la mia intro La mia introduzione finale Vabbè, vabbè Per questo video è tutto Vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto Iscrivervi se non siete già iscritti Di commentare E ciao a tutti